Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Zank 9 4D. Ora, ancora prima di cominciare, qualcuno di voi potrebbe già venirmi a dire ma come Zank? Il capitalismo non funziona. Il capitalismo è il sistema economico forse più diffuso nel mondo e già solo per il fatto che lo stiamo applicando vuol dire che dovrà funzionare in qualche modo. E forse sì, forse dovrei essere stato un po' più preciso. Non dico che il capitalismo non funziona. Il capitalismo può funzionare. Però per un periodo limitato di tempo. E no, non intendo che il capitalismo prima o poi finirà perché, secondo me, tutto è destinato a finire. No, no, io dico che il capitalismo finirà proprio per come è costruito, per come è strutturato. E secondo una previsione che ho fatto un po' così su due piedi, già secondo me fra 50 o al massimo 100 anni il capitalismo dovrebbe essere scomparso. Oppure trasformato radicalmente. Ma vediamo subito perché il capitalismo non può funzionare per tempi lunghi. Dunque, il capitalismo funziona un po' così, per farla semplice. Funziona grazie all'investimento di capitali, che vengono appunto investiti per aprire azioni o attività, volte a produrre essenzialmente. produrre o materie proprio materiali, fisici, oppure anche a offrire servizi, insomma. Tutte e due le cose. E appunto una persona, per poter gestire un'intera attività, un'azienda, ha bisogno di gente che lavori per lui. E quindi cosa fa? Quindi offre posti di lavoro, la gente può accettare o no il posto e ci sarà appunto l'imprenditore con i suoi impiegati che producono cose. Cioè, è proprio semplificato al massimo. Ma questo è un po' come funziona il lavoro, neanche il capitalismo. Che cos'ha di particolare il capitalismo? Il capitalismo ha di particolare che, perché ci sia un certo livello di benessere, è necessario che la produzione di un paese aumenti di anno in anno. Ora, io non sono un economista, però potete chiederlo a chi volete. Nove economisti su dieci vi diranno che, appunto, per mantenere un certo livello di benessere, il prodotto interno lordo di un paese deve avere un aumento percentuale di tot l'anno, tot per cento l'anno. Altrimenti cosa succede? Altrimenti gli economisti si mettono le mani nei capelli, dicono Oddio, il PIL non è salito, o ancora peggio, è sceso, l'economia è stagnante, il paese va in recessione, in poche parole salta tutto. Adesso io non sono qui per mettere in discussione queste cose, che siano vere, che siano false. Secondo me c'è un po' più da discutere. In ogni caso, se le cose devono andare così, c'è un bel problema. Il problema è che se la produzione deve aumentare di anno in anno, l'altra cosa che deve aumentare è il consumo. Perché se un paese produce sempre di più, bisogna che la gente consumi sempre di più. Voi direte, eh no, un paese può anche esportare. Sì, ok, però se a livello generale tutti i paesi producono sempre di più, chi più chi meno, i vari paesi devono anche consumare sempre più materie, sempre più cose. Infatti, non a caso, il capitalismo si basa, è proprio fondato su quello che è il consumismo. Cioè la gente compra cose, poi le butta, poi le compra, poi le butta, che è un po' il contrario di quello che è il riciclaggio. Ora, qual è il punto? Il punto è questo. La gente ha davvero bisogno di comprare ogni anno sempre più roba. Cioè, per dire, se io quest'anno ho avuto bisogno di 100 rotoli di carta igienica, perché l'anno prossimo dovrebbero servirne di più? Cioè, o l'unico caso che mi viene in mente è che la popolazione aumenta, no, e quindi aumentando la popolazione aumenta anche il consumo, ci sono più persone e queste consumano di più, ma questo non mi sembra il nostro caso, perché in tutti i paesi più sviluppati, come anche l'Italia, la popolazione è stabile, o addirittura in alcuni paesi anche un po' in decrescita. E quindi perché dovrebbe consumare di più la gente? Non c'è un motivo logico, e infatti il capitalismo non si basa sulla logica, no. Si basa sulla pubblicità. La pubblicità serve per creare nuovi bisogni che prima non c'erano. Per esempio, non so, la pubblicità è quella che ci fa comprare ogni anno il nuovo iPhone, quando in realtà poi è praticamente uguale a quello precedente. O comunque, magari non tutti sono fan degli iPhone, ma la pubblicità influenza chi più, chi meno, quasi tutta la popolazione. La pubblicità funziona perché la gente è attratta magneticamente dal nuovo, dice, uh, una nuova cosa la devo avere. Però, insomma, fino a che punto la gente si lascerà ingannare, si lascerà abbindolare dalle pubblicità? C'è chi dice, per sempre, la gente non cambierà mai, ma io non ne sarei così sicuro. Secondo me, la gente la può ingannare, sì, però dopo averla ingannata una volta, due volte, tre volte, quattro volte, sempre con lo stesso sistema, dopo un po' inizia a capirci qualcosa. E infatti, secondo me, a un certo punto, il consumo comincerà a calare. Oddio, in realtà forse non dovrei neanche parlare come se si trattasse del futuro, perché forse un pochettino ci siamo già dentro, stando a quello che ho sentito. Poi ditemi voi se mi sbaglio. Ad ogni modo, anche se la gente si lasciasse ingannare per sempre dalle pubblicità, il capitalismo sarebbe comunque destinato a cadere. Perché? Perché i punti crici del capitalismo sono due. Appunto, se il primo riguardava il consumo, il secondo cosa riguarderà mai? La produzione. Il problema è che noi viviamo su un pianeta, la Terra, che ha una quantità limitata di risorse. Quindi, come facciamo ad aumentare indefinitamente la produzione se invece le risorse di cui disponiamo sono limitate? Arriveremo per forza di cose a un punto in cui la produzione non potrà più aumentare perché stiamo già usando al massimo tutte le risorse del pianeta. Voi direte, sì vabbè, ma per esaurire tutte le risorse della Terra passeranno chissà quanti anni. Ma chi l'ha detto? Vediamo di fare un calcolo. Dunque, ammettiamo che un paese, per avere un certo livello di benessere, debba aumentare il proprio prodotto interno lordo dell'1% l'anno. Facendo un po' di conti, otterremo che in 70 anni la produzione del paese deve raddoppiare. Non deve aumentare del 70% perché l'aumento percentuale è sempre riferito a quello della produzione dell'anno precedente. Quindi, in poche parole, dire che la produzione aumenta dell'1% l'anno vuol dire che ogni anno si moltiplica per 1,01. Fate voi i conti, 1,01 elevato alla 70 viene 2, circa. Questa cosa significa che ogni 70 anni la produzione deve raddoppiare. Quindi, in 140 anni, la produzione deve diventare 4 volte tanto. E in 700 anni, la produzione deve diventare 1000 volte tanto. Che è una cosa assurda. Un momento, però. Noi stiamo comunque parlando di diverse centinaia di anni. Mentre io, nella mia stima iniziale, avevo detto fra 50, massimo 100 anni, il capitalismo crolla. Perché? Perché c'è anche il terzo problema legato al capitalismo. Ed è un problema molto, molto più grave. Che gli altri due proprio se li mangia. Gli altri due problemi sono del tutto secondari rispetto a questo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un problema legato alla produzione dell'energia. E, fidatevi di me, l'energia serve per fare tutto. Qualsiasi cosa. Molti di voi avranno già capito. Per chi non lo sapesse, sto parlando del riscaldamento globale. Adesso potrei parlarne in questo video, però non c'è abbastanza tempo. Quindi farò un video proprio a parte, sempre su questa serie, riguardante il riscaldamento globale. Questa serie, infatti, si chiama Politica e Attualità. E quello del riscaldamento globale è il più grave problema di attualità di cui si possa discutere. Tuttavia, il prossimo video, che è appunto quello sul riscaldamento globale, che uscirà forse non la settimana prossima, ma quella dopo, perché voglio prepararlo molto bene, sarà un video scientifico. Cioè, perfettamente scientifico. Mentre quando a volte parlo un po' di politica così, chiaramente do anche delle opinioni personali, quindi possono essere vere, non vere, se ne può discutere, lì no, lì vi porterò proprio dei dati scientifici, perché non stiamo parlando di opinioni. No, lì c'è soltanto il vero o il falso. E purtroppo questo problema è vero. Il video di oggi, quindi, finisce qui. Mi raccomando, la settimana prossima non perdetevi il terzo appuntamento di Problemi per Tutti, che uscirà probabilmente venerdì o sabato. Mentre fra due settimane è ancora più importante, soprattutto se non siete informati, il video sul riscaldamento globale. E quindi io vi saluto, alla prossima puntata. Adios!